Appinché Italia 5 Stelle il 24 e 25 settembre a Palermo sia un successo, abbiamo bisogno del tuo aiuto per far sapere a tutti che si terrà a questo evento, perché è importante partecipare e per raccogliere tantissime piccole donazioni da semplici cittadini che credono nel nostro sogno. Puoi aiutarci realizzando e pubblicando sul tuo profilo Facebook, Instagram o Twitter un video. Nel video dovrà essere presente un palloncino e in massimo un minuto e mezzo dovrai 1. Raccontare il punto del programma del Movimento 5 Stelle a cui tieni di più o il risultato ottenuto dai nostri portavoce di cui sei più orgoglioso oppure la proposta di legge presentata a cui sei più legato 2. Invitare a partecipare a Italia 5 Stelle. Semplice no? 3. Invitare a fare una piccola donazione. Questo perché? Perché nel testo che accompagnerai il video devi utilizzare l'hashtag Italia 5 Stelle. Devi inserire questo link. Una volta che il tuo video sarà pronto caricalo sul tuo profilo Facebook, Instagram o Twitter seguendo le indicazioni di sopra. Spazio alla creatività. Il video può essere una canzone, un'animazione, un semplice video con una webcam o con il tuo telefono in modalità selfie mentre passeggi per strada o se sei fortunatamente in spiaggia. Lo staff di Italia 5 Stelle monitorerà i social ricercando l'hashtag Italia 5 Stelle e i video trovati saranno condivisi e rilanciati dai canali Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del Movimento 5 Stelle e di Beppe Grillo. Inoltre i migliori 30 saranno pubblicati qui sul blog e trasmessi durante i due giorni di Italia 5 Stelle a Palermo e i loro ideatori vinceranno una cena con i portavoce del Movimento 5 Stelle. Nella valutazione dei video che saranno pubblicati sul blog influiranno il numero dei link, delle condivisioni, dei commenti, dei retweet e l'insindagabile giudizio dello staff di Italia 5 Stelle che ne valuterà i contenuti e la creatività. Coraggio, dateci una mano. I video che invierete per essere pubblicati qui sul blog e vincere la cena devono essere al massimo di un minuto e mezzo e devono assolutamente contenere nel testo di descrizione pubblicato su Facebook, Instagram o Twitter l'hashtag Italia 5 Stelle. Il link nel video deve esserci presente un palloncino. Ci crediamo, credici anche tu.